Polisportiva Policiano ancora in prima fila per l'organizzazione di questo campionato assoluto. Quale sarà, a tuo parere, il livello tecnico di questa manifestazione? Direi che questo è il livello alto, perché porta i migliori atleti azzurri a competere in una disciplina che è il mezzo fondo prolungato di 10 km, anche se poi mancano alcune punte particolari, ma diciamo che il meglio dell'atletica sarà presente domenica ad Arezzo, proprio per conquistare questo titolo, che non sarà così acquisito, ecco, già alla partenza. Quindi ci sono diversi soggetti, diversi atleti che potranno competere fra di loro per poter raggiungere questo obiettivo. Stefano Larosa, domandiamo, lui ha partecipato in passato a questa manifestazione, conosce l'ambiente di Arezzo, è una gara difficile in grado di fare selezione? La gara è stata scelta un percorso dove si può correre molto forte, perché è un percorso pianeggiante e quindi gli atleti si daranno una grande battaglia. Conosco anche la maggior parte degli atleti che correranno e quindi sarà sicuramente un grande spettacolo. Arezzo quindi ancora al centro del podismo nazionale? Arezzo si presta per questo tipo di manifestazioni, è bene che il campionato italiano di 10 km si svolga a Punta d'Arezzo, perché la polisportiva Policiano e la famiglia Sinatti sa veramente di cosa si tratta e organizzerà al meglio questa manifestazione. Le difficoltà erano tante, per il 2024 erano in dubbio le due manifestazioni più importanti, quindi Maratonina e Scalata al Castello. In realtà, lavorando tutti insieme, non solo la Scalata a Castello si è già tenuta, la Maratonina si terrà a fine mese, ma abbiamo questa ulteriore manifestazione importantissima, perché è un campionato assoluto, quindi è una gara di livello nazionale e quindi questo dimostra che collaborando tutti insieme otteniamo ottimi risultati.